gentili telespettatori buona giornata enrico mentana che conosciamo tutti è stato sospeso dall'ordine dei giornalisti ma che cosa avrebbe combinato enrico mentana per essere espulso dall'ordine dei giornalisti beh dice così aprendo solo ora non sono del giro dice che l'ordine fascista dei giornalisti ha sospeso alcuni affiliati perché non si sono dotati della posta elettronica certificata quella che si chiama la pec si tratta di nomi prominenti mentana di tele 5 stelle purgatori idem quello che dicono che vabbè insomma andiamo avanti quello che dicono non era poi così importante dice non so per quale motivo siano stati così allontanati per non essersi dotati appunto dell'account di posta elettronica certificata dice certo se non ce l'hai eviti di ricevere notifiche delle citazioni per danni fatti da chi si sente danneggiato dalle cose che pubblichi e il danneggiato è costretto a ricorrere alle scartoffie recapitate dal postino che chissà quando arrivano e se arrivano ma magari la ragione non è quella dicono quel che mi domando però riguarda altro le star del giornalismo continuano a fare esattamente quello che facevano prima di ricevere il provvedimento di sospensione e allora sospensione da che cosa? se vuoi fare il giornalista devi essere iscritto all'ordine dei giornalisti se però sei sospeso chi se ne frega e continui come prima sì questa è una cosa che non ho mai capito in Italia per fare il giornalista devi essere iscritto all'ordine però una volta che sei iscritto all'ordine ti fanno fare il giornalista da qualche parte se poi tu non fai più parte dell'ordine continui a fare il giornalista è come se l'ordine dei giornalisti ti facesse entrare nel mondo e poi non esci più ma lui viene cancellato perché non ha aderito a questa cosa della posta certificata e la domanda che segue è questa l'ordine dei giornalisti che sospende un affiliato e poi assiste alla perseveranza giornalistica del sospeso non dice poi più nulla se un altro professionista, ad esempio un medico, un avvocato, un architetto vengono sospesi non possono continuare a fare il loro lavoro l'avvocato non può fare l'avvocato l'architetto non può fare i progetti il dentista non può otturare i denti invece il giornalista va avanti bello come il sole con le sue maratone con i suoi speciali con i suoi ettari di editoriali è una sospensione per modo di dire cioè in effetti la sospensione significa essere sospesi dall'affiliazione all'ordine dei giornalisti la sospensione non significa che sei sospeso e non puoi più fare il tuo lavoro non è questo probabilmente negli altri ordini sì, se sei sospeso dall'ordine dei medici probabilmente non puoi fare più il medico ma magari non è neanche vero fino in fondo questo in un paese decente si dice dovrebbero farsi la PEC e con quella dovrebbero scrivere un bel messaggio con cui comunicano le dimissioni dall'ordine dei giornalisti e invece no, stanno senza e l'ordine dei giornalisti se li legge e se li guarda dopo averli sospesi mica vale il sistema del giornalismo italiano scrivono su questo giornale naturalmente chi ha scritto quello che vi ho raccontato deve essere qualcuno che ce l'ha fortemente con l'ordine dei giornalisti io per fortuna dove scrivevo sul giornale non ho dovuto iscrivermi a nessun ordine dei giornalisti perché qua dove sono io in questo momento non c'è nessun ordine dei giornalisti il direttore del quotidiano nazionale mi ha detto vuoi iscrivere? non ti posso pagare mi ha detto vabbè come al solito non ti posso pagare però ti serve per farti un nome ah Caspiterina mi faccio un nome ti sei fatto il nome sapete voi cosa ci potete fare con con il nome che uno si è fatto? non ve lo dico vabbè io ho lavorato due anni poi ho lasciato perdere mai ricevuto neanche una penna di regalo con il suo scritto il nome del giornale niente per questo io non ho dovuto iscrivermi a nessun ordine chiunque dove sono io adesso può scrivere su un giornale poi se non ti fanno più scrivere non scrivi più sul giornale non c'è un ordine al cui affiliarsi non c'è un ordine una corporazione che si confronta con gli editori una sorta perché gli ordini dei giornalisti eccetera eccetera sono un po' come una sorta di sindacato un qualcosa del genere cioè loro parlano in tuo nome agiscono in tuo nome però il fatto è che Mentana l'avevo già sentita questa notizia che era stato sospeso dall'ordine dei giornalisti proprio per questa per questa PEC questa email certificata non lo so perché realmente Mentana si è messo contro l'ordine dei giornalisti alla fine da quello che ho capito l'ordine dei giornalisti non serve assolutamente a a nulla a nulla proprio a niente comunque a parte queste mie considerazioni questi ordini sono cose che vengono da molto lontana lontane probabilmente da prima della creazione della Repubblica Italiana e sono rimaste sono delle specie di di caste di lobby di di sindacati di corporazioni no i giornalisti gli avvocati gli ingegneri gli architetti e vabbè una sorta sì di sindacato per farsi forza pertanto a parte questo io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra diciamo una ventina di minuti qui su Tele Italia poi c'è anche l'altro canale Tele Italia Seconda Rete dove vedete e trovate video di politica di notizie di fai da te è un canale più piccolo ha quasi 15.000 iscritti però non sono male certo non è come questo canale che ne ha quasi 200.000 è intorno alle 15 milioni di visualizzazioni al mese però piano piano i due canali crescono giorno dopo giorno sempre costantemente questi video di questi due canali poi vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di facebook che si chiama Tele Italia dove lì appunto se vi sono interessati questi video li potete condividere con con chi volete e ringraziandovi ancora vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra poco per un altro video arrivederci grazie grazie Grazie.